E' fondamentale difendere la grande bellezza italiana che è completamente minacciata. Minacciata da chi? Ma come? La rispeculatoria. E lo Stato non riesce a difenderla perché spesso è debolo, mentre il Fari è libero. Libero politicamente, libero di difendere la nostra grande bellezza. La nostra grande bellezza perché è tanto importante? Perché può produrre anche un reddito, un'economia politica. Noi abbiamo la metà dei turisti della Francia avendo il doppio dei loro beni culturali. Quindi è chiaro che dobbiamo investire lì, dobbiamo proteggere, conservare e valorizzare il nostro tesoro che è la nostra storia, il nostro paesaggio, il nostro paesaggio. Per questo è importante iscriversi a Fari, 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 Sulti. Ciao.